iniziare con la presentazione di oggi con l'evento di oggi andiamo a renderizzare sostanzialmente a visualizzare in notturna questa ambientazione qui sono in realtà tre file in formato sketchup come si può vedere nella sezione dell'import magari clicco f11 vado a tutto schermo sono tre file sketchup in realtà quello di interesse nostro sarà questo qua centrale che chiaramente farà da soggetto tutti gli altri fanno un po da da contorno alla scena giusto per darvi la prova abbiamo diversi complessi più chiaramente alcuni giusto così per creare un po di ambientazione per chi non conoscesse twin motion magari la prima volta che lo vede twin motion un software che si fa rendering ma in realtà è mirato alla visualizzazione immersiva ovviamente 3d all'interno di twin motion io vado in modo estremamente semplice a caratterizzare il mio modello con materiali modelli 3d posso cambiare le condizioni climatiche atmosferiche con pochissimi clic lo vediamo insieme ma la cosa fantastica del programma è che è in grado di generare immagini e video o anche interi modelli 3d navigabili in un batter d'occhio eliminando completamente se vogliamo i tempi d'attesa e facilitando un po quello che è il problema alla fine del render cioè la tempistica non avrei mai tempo per renderizzare detto questo ovviamente dimostrerò tutto quello che ho appena ho appena detto ho importato all'interno di twin motion in realtà 3 file sketchup non con live connection ma con l'importazione standard quindi in realtà qualunque software può essere importato in questo modo ovviamente di 3d di superfici quello che io vado a fare ovviamente per generare un'immagine almeno per il momento è impostare una scena io la scena è la prima cosa che sostanzialmente vado a richiamare nel momento in cui ho bisogno di renderizzare la mia scena come magari avete anche visto nella pubblicità comunque del webinar vado a inquadrarla più o meno in questa zona vado nella mia sezione dei media immagine e creo la mia immagine creo in senso la imposto poi la posizione della camera per il momento non è non è importante perché comunque magari cambierà nel tempo però comunque inizio ho già a rendermi conto di come potrebbe essere l'inquadratura perché faccio questo prima di impostare il buio se vogliamo semplicemente perché io lo vado a fare per ogni singola scena ogni scena avrà la propria impostazione quando dicevo prima che twin motion è un software estremamente semplice e veloce ad utilizzare intendevo anche solo il passaggio da giorno a notte qui io ho impostato abbastanza in modo banale il tempo del giorno magari tolgo anche il background perché lo vado a personalizzare in un secondo momento questo solo perché nel momento in cui io dovessi andare a generare una nuova scena o entrare all'interno del modello per non del modello ma dell'ambiente ed evitare di toccare questa scena posso sempre farlo e richiamare le impostazioni diciamo di base di default e ovviamente quando voglio ritornare sempre nella mia scena chiaramente prima di iniziare con la parte relativa all'ambientazione notturna è importante caratterizzare un po' la scena dargli un po' di carattere ovviamente io in realtà qua colgo l'occasione per introdurre anche quella che è la libreria di twin motion la maggior parte delle volte viene utilizzata in ambiti interni vegetazione ma in realtà esistono tantissimi altri moduli altri settori all'interno della stessa libreria nella sezione siti ad esempio che possono essere utilizzati e sono veramente di una qualità altissima io qui ho già creato due layer due gruppi che ho nascosto ma molto molto semplicemente questo qua possiamo anche eliminarlo qui io ho un cestino ho non so dei paletti qua e quant'altro quindi sono tutti elementi in realtà già caratterizzati pronti per essere renderizzati e inseribili direttamente dalla libreria giusto per dare un esempio ci sono anche un sacco di di alberi anche in questa sezione io adesso ad esempio ne prendo uno lo vado a posizionare magari più o meno qua in questa zona e vi dico subito che la mia scena sarà una scena di giorno con diciamo una temperatura abbastanza bassa se vogliamo quindi io posso tranquillamente andare a selezionare il mio albero eventualmente andarla a personalizzare anche qui vediamo l'interattività comunque del programma ma la cosa che mi interessa è modificarne la stagione anche qui le icone sono abbastanza semplici da capire clicco qua schiaccio su winter inverno e voilà il mio alberello diventa spoglio la cosa in realtà utile da fare anche in questa fase è aggiungere dettagli perché alla fine 2motion mi consente di fare quello ad esempio non da qua dalla sezione della vegetazione io posso tranquillamente anche qui andare a posizionare delle foglie sul pavimento questo tipo di elemento potenzialmente sarà duplicato a livello di distanza lungo il mio percorso perché no ad esempio io questo elemento lo posso andare a posizionare sull'altro lato della strada e di conseguenza in realtà posso continuare a creare copie dei miei oggetti con un semplicissimo ctrl c ctrl v e andarla a posizionare chiaramente laddove mi interessa averli in questo modo ovviamente vado a impostare e generare sempre più dettagli nella mia scena che ovviamente male non fa un render sì è bello nel momento in cui i materiali sono sono fatti bene le luci sono impostate nel modo corretto ma anche se aggiungiamo chiaramente dei dettagli una cosa che io faccio che vi consiglio sempre di fare è mantenere un certo ordine quindi creo un bel layer vegetazione all'interno del quale vado a inserire tutti i nuovi elementi che sono andato a a impostare questo perché chiaramente va a snellire il browser modello sempre visto che parliamo di vegetazione introduco anche il diciamo il modulo che mi permette di inserire vegetazione con un click sicuramente se avete visto dei video online di Twinmotion questo comando è stato è stato fatto vedere con una semplicità disarmante io vado a generare chiaramente sulle superfici che io vado a toccare in questo caso un manterboso questo manterboso ovviamente per il momento non mi dà abbastanza soddisfazione nessun problema lo seleziono in aumento della densità vado nei settings nelle impostazioni eventualmente modifico anche l'altezza quindi io sto andando sì a renderizzare a caratterizzare la scena a arricchirla di dettagli ma con ripeto una semplicità assurda senza intaccare le prestazioni della macchina poi ovvio che andando avanti mettessi se io andassi a mettere 100.000 modelli 3d all'interno il computer ne risentirebbe ma vi assicuro che provare a mettere nel vostro inserire nel vostro 3d tanti elementi moduli del genere andrebbe comunque a non dico ammazzare il computer ma sicuramente un problema di crash arriverebbe prima o poi dicevo andiamo a magari tolgo anche la videocamera così va meglio andiamo ad arricchire ancora con dettagli qua siamo su una strada quindi per chi non conoscesse il programma vado a eseguire delle operazioni in realtà assurde ma per chi conosce già il software queste sono delle operazioni estremamente semplici da richiamare così come sto andando a fare in questo momento quindi andando a creare un percorso di macchine lungo il quale chiaramente in realtà un percorso lungo il quale correranno delle macchine anche qui con la stessa semplicità con le stesse levette che abbiamo visto per gli alberi per la vegetazione vado ad aumentare o diminuire comunque diversi parametri come la densità il numero di corsie e così via la stessa cosa ovviamente la faccio anche sulla seconda corsia esco dal comando e seleziono un secondo percorso quindi un altro percorso con macchine lo faccio terminare in questa zona perché tanto poi andrò a coprire quello che è il gap che si viene a creare ok anche qui aumentiamo a 2 il numero di corsie e perché no aumentiamo la densità leggermente la stessa cosa ovviamente vado a fare con le persone perché abbiamo un marciapiede libero vado a creare un percorso di persone quindi unisco leggermente la velocità e vado a creare un percorso lungo il quale saranno generate automaticamente personaggi che chiaramente camminano tutti magari con più densità che camminano lungo il percorso che ho appena impostato anche qui creo magari un container un gruppo percorsi e ci inserisco dentro i miei percorsi la vegetazione la mettiamo sempre dentro il layer della vegetazione tornando nella scena iniziale che abbiamo impostato gli elementi rimarranno sempre visualizzati ci tengo a farvi vedere che prima le luci delle macchine non c'erano adesso sono state impostate non erano presenti i modelli che prima avevo nascosto nessun problema li lascio visibili e clicco di nuovo sull'aggiornamento della scena in questo modo io avrò chiaramente molti più dettagli all'interno della mia scena usciamo dalla caratterizzazione qui una cosa fondamentale in realtà nel momento in cui si va a renderizzare quel programma e assegnare ovviamente dei materiali nel momento in cui la scena è stata caratterizzata anzi direi mettiamo anche qualche altra persona nelle persone per chi non conoscesse di nuovo Twinmotion mi consente di inserire modelli 3D ad altissima risoluzione sono tutti elementi scannerizzati in 3D quindi sono persone reali posizionabili nella scena nel filtro di ricerca io scrivo Winter solo per una questione di diciamo coerenza con quella che poi sarà l'immagine Winter mi genera, mi filtra immagini di in realtà modelli di personaggi con cappotti invernali e chiaramente che possono essere inserite all'interno della mia scena per creare comunque un contesto più o meno reale inserisco lui chi inseriamo? inseriamo lei la mettiamo così e anche magari quest'altra signorina qua solo per dare creare carattere comunque alla nostra ambientazione al nostro render magari aggiungiamo anche una qua giusto che si sta allontanando e voilà dicevo una volta impostati impostati i modelli 3D all'interno della scena una volta creato un po' di un po' di un po' di dettagli nuovo container persone seleziono gli elementi e li inserisco tutti nello stesso gruppo vado a lavorare con i materiali i materiali di 2Motion sono presenti nella libreria ce ne sono tantissimi di materiali in realtà ce ne sono ancora di più nel momento in cui si ha una licenza diciamo ufficiale grazie a Quixel Megascans che è stato inserito circa un anno fa con l'ultimo aggiornamento ed è una libreria che conta veramente decine di migliaia di asset che siano 3D o che siano superfici in particolar modo visto che abbiamo qua l'asfalto nella sezione delle superfici io me ne sono salvato uno sotto asfalti rugosi c'è questo che viene definito Cracked Asphalt per utilizzarli basta solo scaricarli ci vogliono 5 secondi e applicarli sulle superfici di interesse ovviamente rispetto alla superficie di prima che è una superficie a livello di materiale che io ho impostato dentro il mio 3D questa ha una qualità nettamente superiore ok? ma in realtà questo asfalto è un po' troppo chiara nessun problema la vado leggermente a scurire la qualità della texture del materiale la vediamo questo materiale di Quixel Quixel Megascan integrato dentro Twinmotion gratuito perché chiaramente ha una licenza e qui sono materiali di altissima altissima qualità altri materiali come ad esempio questi che io ho impostato sul 3D sono materiali che si possono essere sostituiti dall'interno della libreria di Twinmotion ma per le scene notturne prima lo dicevo sono un po' più facili se vogliamo da realizzare perché i dettagli dei materiali non si vedono così tanto bene come magari di giorno cosa posso fare in realtà con un materiale esistente che non voglio necessariamente sostituire lo richiamo e una cosa che io consiglio su qualsiasi materiale è andare a utilizzare il grunge il grunge è questo effetto di sporco vedete che dà un tocco di realismo comunque alla texture alla superficie la stessa cosa la vado a fare anche con l'asfalto adesso l'asfalto la vediamo in questo modo ma ovviamente nel momento in cui la vado un po' a sporcare gli diamo carattere è quasi come se fosse reale idem andiamo a fare con qualsiasi altro materiale in particolare con questi mattoni qua sempre dal Quixel c'è una sezione di bricks quindi mattoni eccolo qua anche qua i rugosi vanno benissimo anche qua ce ne sono tantissimi tutti perfettamente caratterizzati e di qualità ripeto altissima ne prendo uno e io lo posiziono sulla mia superficie questo elemento ci tengo a farvelo vedere anche qui modifico un leggerissimo parametro e la qualità chiaramente cambia ovviamente lui era già con la qualità buona ma giusto per farvi vedere anche in che modo posso andare a interagire col materiale stessa cosa degli altri posso andare a aumentare questo grunge questa sporcizia vedete proprio quanto cambia ovvio che non bisogna esagerare ma avere un minimo di percentuale giusto per dare un po' di colore stessa cosa facciamo anche con gli altri questo direi che lo possiamo anche lasciare così com'è ma aggiungiamo solo leggermente questo grunge ovvio che guardate proprio cambia completamente ovvio che io adesso devo andare un po' togliamo tutte queste cose cliccando G devo andare veloce perché sennò vi annoiate ma la stessa cosa a livello di caratterizzazione di materiali la possiamo fare su qualsiasi materiale guardate proprio quanto cambia la superficie questi effetti in realtà sì sono più visibili di notte di giorno ma in realtà attenzione anche di notte si vedono esattamente nello stesso modo ora la scena è un po' scura perché chiaramente non ho ancora impostato la luminosità sto caratterizzando con modelli 3D e materiali ma tra un po' andremo a vedere anche quello l'ultima cosa se vogliamo che mi rimane è caratterizzare anche un po' queste colonne qua queste colonne io non le caratterizzo solitamente con come si dice con materiali nel momento in cui hanno questo stato a meno che non abbia delle caratteristiche specifiche da andare a impostare su i vari livelli del materiale una cosa che io utilizzo molto è nella sezione objects decals nei decals vedete ci sono veramente tantissimi segnali orizzontali stradali anche chiaramente verticali ma con questi io posso andare anche a caratterizzare la mia scena ad esempio più giù ci sono ecco qua le strade danneggiate questi elementi qua che inseriti all'interno danno ancora di più un tocco di realismo questi questi elementi magari li posso posizionare e eventualmente anche andare a ruotare per non averli sempre tutti orientati nello stesso modo e ripeto dare sempre di più realismo alla scena magari non così evidenti perché sennò sembra che la strada sia tutta spaccata dicevo per quanto riguarda le colonne posso andare a inserire elementi di sporcizia controllata ad esempio io posso selezionare questi elementi adesso non badate a quanto sono neri perché adesso chiaramente li vado a modificare per anche qui dare più realismo all'elemento io adesso ne posiziono qualcuno che vado poi a selezionare tutti insieme per modificare chiaramente l'opacità e non dare proprio l'idea che questo sia il palazzo più sporco del mondo per lo stesso principio di prima crea un nuovo container strada e gli vado ad inserire tutte queste deformazioni se vogliamo guardate come è più reale anche solo da questa semplicissima aggiunta non si vedono tanto nessun problema le selezioniamo e aumentiamo l'opacità quindi dal punto di vista almeno di caratterizzazione chiaramente lo stesso discorso lo possiamo portare avanti per qualunque elemento lo stesso quello che adesso andrei a fare dal punto di vista di modelli e materiali in realtà sarebbe andare a caratterizzare gli infissi con i telai eccetera ma direi che per il momento può andare può andare bene così quindi andiamo un pochino più nel particolare per quanto riguarda poi la caratterizzazione della nostra scena notturna in una scena notturna richiamiamo quindi l'immagine che è stata caratterizzata adesso siamo siamo pronti per per inserire un po' di luce all'interno della scena selezionando sul more vado un po' in ordine logico rispetto a quello che mi suggerisce il programma la location l'abbiamo già impostata quindi abbiamo tolto lo sfondo abbiamo messo il buio nel tempo io vado a caratterizzare la scena con un pochino di pioggia cioè non pioggia ma con pavimento bagnato adesso forse non si vede tantissimo perché non c'è tanta luce anzi in realtà qua si vede benissimo quando passano le macchine vediamo proprio quanto il la superficie sia bagnata ovviamente sto creando delle pozzanghere semplicemente spostando questa levetta oppure eventualmente faccio piovere tutto per dimostrare appunto quanto è semplice utilizzare il programma io non voglio una serata di pioggia non voglio neanche una serata diciamo limpida voglio qualche pozzangherella quella la stagione la possiamo anche lasciare così come negli effetti l'unica cosa che eventualmente posso andare ad aggiungere è lo smog lo smog vedete va a camuffare tutto quel camuffare un po' a nascondere tutto quello che c'è almeno in una scena dove si vede all'esterno tutto ciò che sta diciamo oltre quello che sono i modelli 3D presenti all'interno della scena il che a me va benissimo perché di vedere quella roba là in fondo non mi interessa quindi vado tranquillamente a eseguire un'operazione del genere tutto il resto possiamo lasciare così non abbiamo elementi che svolazzano lightning in realtà qua nella sezione dell'illuminazione non vado a toccare più di tanto perché l'illuminazione io la gestisco manualmente quindi con modelli che adesso chiaramente vado a inserire l'unica cosa che tocco sono magari il bilanciamento qua del bianco ovviamente posso rendere un'immagine più scura cioè più scura più calda a livello proprio cromatico o leggermente più fredda io qui per il bilanciamento del colore lascio anche un 5000 Kelvin o un 5005 insomma voglio un'immagine fredda l'ombra la abbassiamo leggermente giusto per non andare troppo oltre e nella sezione qua dei settings l'unica cosa che volendo posso andare a cambiare perché il sole non ce l'abbiamo non c'è il sole nella scena eventualmente posso modificare la luce della luna chiaramente adesso non ha più senso di esistere la scena ma per il momento non mi interessa perché tanto io andrò a inserire una skydome quindi un cielo personalizzato a breve l'unica cosa che ripeto posso andare a modificare è l'illuminazione ambientale con l'illuminazione ambientale vado leggermente a caricare un pochino più di luce la scena luce naturale tendenzialmente ma ripeto adesso vado a caratterizzare con tutte le luci quindi il lightning lo possiamo anche lasciare così com'è l'ultima sezione molto importante in realtà è la camera fondamentali sono il parallelismo delle verticali e l'apertura della focale per adesso li lascio un attimo liberi perché ho bisogno comunque di andare ancora in giro per la scena però come ultimo passaggio li vado a modificare qui eventualmente aumento leggermente la vignettatura quindi diciamo una cornice scura intorno all'immagine giusto per simulare anche un po' l'effetto della macchina fotografica che ha esattamente queste impostazioni ultimo ma non per importanza nel visual effects una cosa fondamentale che io consiglio a tutti di toccare modificare sono i contrasti di default sono impostati mi sembra sul 50% ma vi assicuro che anche solo modificarli leggermente cambia completamente la qualità della vostra scena cioè proprio prima c'è un tonero non si vede così tanto bene mi basta veramente toccare pochissimo il contrasto e tutto si si rende molto più visibile stesso per la saturazione qui va a discrezione vostra ovviamente non lasciamo al 100% perché abbiamo colori troppo nitidi neanche a 0 perché in bianco e nero diciamo una via di mezzo magari non un 50 un pochino di meno ultimissima cosa il type quindi il visual effect per autonomasia qua ce ne sono di diverso tipo andiamo a utilizzare uno dei template per modificare anche la cromia dell'immagine io solitamente utilizzo il blue tint questo elemento qua vedete che sia un po' caratterizzato di azzurro il tutto per dare un tocco più particolare alla scena in questa scena utilizzo in realtà questo ISM questa scena un pochino più bluet con questi colori in realtà più bluet l'ho fatto già prima con la sezione del lightning ho abbassato leggermente la tonalità del bianco faccio lo stesso anche qua magari diminuisco ancora leggermente la saturazione e il contrasto direi che può andare bene così quindi anche nella sezione della camera tolti questi due elementi che poi vado a modificare e a impostare bene 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 alla fine abbiamo finito come facciamo a vedere bene nella scena notturna sicuramente con le luci prima cosa da fare sicuramente sono i lampioni ovviamente io ho impostato i lampioni in modo tale che i lampioni diciamo il vetro qua del lampione in modo tale che modificandone uno modifico tutti questo l'ho impostato chiaramente nel 3D creando un componente sostanzialmente quello che vado a fare è utilizzare nella sezione dei materiali di Twinmotion il materiale neon ad esempio questo qua giallo lo vado a impostare vede che tutti i lampioni qua c'è ancora uno si sono caratterizzati con una fonte luminosa la stessa cosa in realtà io faccio e questa prendetela fatene tesoro di questo lo faccio al posto della come caratterizzazione di material al posto dei vetri questo giusto per dare ovviamente adesso lo modifico per dare questo tocco più particolare a tutta la scena ovviamente questo questa come si dice questa illuminazione luminosità è un po' troppo marcata la vado leggermente ad abbassare magari non così tanto 4 unità 5 unità vanno più che bene e già la scena comunque inizia a essere molto più luminosa rispetto a prima ok una cosa che però non succede automaticamente ma dobbiamo impostare noi è impostare i fasci di luce perché questi sono solo materiali emissivi rilasciano comunque poca luce a meno che non esageriamo per creare gli effetti luminosi quindi fasci di luce esiste la sezione del light quindi delle luci qua torniamo indietro la sezione delle luci che magari inserisco già come nuovo container luci mi consente di inserire delle yes lights delle luci preimpostate che in realtà possiamo andare ovviamente a modificare che una volta posizionate mi danno mi daranno grandi soddisfazioni ad esempio prendiamo la prima adesso non è che se ne volete esplorare ce ne sono tantissime prendiamo la prima e la posizioniamo esattamente in questa posizione ad ora non sembra in realtà che la luce emetta il fascio di luce emetta qualcosa un po' di luminosità semplicemente perché ha un cono angolare troppo ampio diminuiamolo leggermente magari anche solo a non so 90 gradi 100 gradi aumentiamo l'attenuazione l'attenuazione è fin dove cioè inizierà a irradiare 8 metri direi che può anche andare bene e abbasso però la luminosità l'abbasso perché se no sembra che questa scena qua sta accadendo Mr. Bean come dico sempre ups 50 lumen più o meno ci siamo e direi abbassiamo ancora leggermente così ups modifichiamo perché no anche l'abbiamo fatto con la scena lo facciamo anche qua la tonalità del della luce qui al contrario per contrapposizione la faccio leggermente più calda e perché no ovviamente attivo le ombre attivo le ombre vedete attiva disattiva e ultimo fondamentale questo se in una scena notturna soprattutto perché era un po' di atmosfera l'aze l'aze è questo questo effetto che in una serata piovosa ci sta perfettamente non piovosa però comunque tendente ci sta perfettamente ovviamente non così rimarcato vado sul more e abbasso leggermente in realtà non leggermente ma fino direi una cosa così anche meno l'intensità anche 8 la stessa cosa e già qua vediamo che il risultato è completamente diverso rispetto agli altri magari questo qua facciamo che io lo posiziono ancora più vicino ho sbagliato toccare questo qua lo prendiamo io lo mettiamo qua questa luce adesso la possiamo prendere ctrl c ctrl v creo un'istanza e la vado a posizionare esattamente da questa parte queste luci a questo punto le posso prendere copiare e incollare e posizionare esattamente dove sono collocate anche tutti gli altri lampioni questa cosa va da sé la vado a fare per tutti i lampioni che sono presenti nella scena ctrl c ctrl v come se non sapessi fare altro e vado a posizionare le mie lucine più o meno in corrispondenza dei lampioni insomma adesso non ci perdiamo tanto in in posizionamenti questo solo per caratterizzare ancora di più la nostra scena sto creando tante istanze perché istanza è diversa da copia perché mi consente una volta che vado a modificarne uno di modificare anche tutti gli altri tutti i figli dicevo è diverso perché la copia è un qualcosa che mi mi consente comunque di andare a interagire attivamente solo con un elemento alla volta è ovvio che l'istanza in questo caso fa a caso mio ne creo ancora qualcuna giusto per farvi vedere poi l'effetto finale io li sto posizionando abbastanza casualmente però voglio dire nel render finale la posizione esatta della luce non viene visualizzata da dove parte precisamente il cono questo qua di luce quindi possiamo anche posizionarli in modo abbastanza grossolano ritorniamo a dove abbiamo impostato l'immagine vediamo già questo tipo di effetto ovvio è che io la luce adesso l'ho impostata abbastanza velocemente ma se non mi dovesse piacere non sono limitato a questo effetto perché io posso aumentare tutte o diminuirle tutte in modo immediato magari non 50 lumen come prima mettiamo magari 20 e già abbiamo un effetto che prima non avevamo molto molto più interessante modifichiamo eventualmente ancora un pochino l'angolo e già qui iniziamo a ragionare rispetto alla nostra scena di esterni una cosa che magari ci posizioniamo un pochino più così forse è più bello da vedere torniamo qua e aggiorniamo la scena una cosa che io vi consiglio anche di fare nel momento in cui avete dei contenitori fuori dalla scena è andarla a caratterizzare anche loro non con materiali perché tanti materiali di questi elementi non si vedono ma di caratterizzarli con delle luci esattamente come ho fatto qui con 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 le finestre che in realtà sono diventati elementi emissivi con delle luci ci sono le luci omnidirezionali questa qui una volta posizionata all'interno di un ambiente ad esempio qua e chiaramente caricate con tanta 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 intensità voi mi direte non riesco ad andare oltre in realtà Twinmotion mi consente di scrivere dei valori anche superiori rispetto a quello che mi consente di inserire a livello manuale il programma posso scrivere 10.000 100.000 1.000.000 tutto quello che mi serve quindi non sentitevi limitati dalla lineetta qua ovviamente lui illumina solamente in questa sezione lo faccio vedere forse un po' meglio in questa parte è ovvio perché il default vado ad aumentare nel raggio aumentando nel raggio magari questa luce la posiziono sul piano così la luce non va anche sotto questa luce ovviamente adesso nel momento in cui la vado a esasperare fammettermi ritornare alla mia immagine va vedete a illuminarmi comunque il piano di riferimento la stessa cosa la posso fare ovviamente per tutti gli altri piani quindi lo stesso tutti insomma quelli che uno preferisce lo seleziono lo incollo copio incollo e lo vado a posizionare all'interno dell'altro edificio magari cambio il piano torno alla mia scena magari questa qua la abbassiamo leggermente vedete che la luce proprio qua cambia e già sto creando degli effetti particolari sicuramente più di impatto rispetto ad avere la scena completamente spoglia in realtà dicevo prima magari ci mettiamo ancora leggermente così dicevo prima per il cielo lo sfondo si adesso vediamo così si ci sono le stelle fantastiche in realtà io posso fare di meglio nel senso che dalla sessione import posso modificare il mio cielo importando quella che è ormai per chi conosce Twinmotion la famosa Skydome Skydome è una una sfera una sfera che viene importata all'interno del mondo la faccio vedere uscendo proprio dalla scena questa sfera qui e viene considerata esattamente come se fosse un materiale un materiale che io posso andare a caratterizzare con un'immagine uno sfondo HDR quindi un'immagine a 360 gradi gli do un materiale vado nella sezione More Texture Open ci sono tantissimi siti online dai quali poter scaricare immagini sferiche io adesso ne prendo una che chiaramente mi sono scaricato in precedenza e vado a importare all'interno di Twinmotion un cielo del genere che sicuramente è più bello di quello di prima la cosa utile qua da fare almeno in una scena del genere secondo me è selezionare ovviamente la sfera e abbassarla abbassando la sfera magari anche ruotandola se riesco si togliamo questa luce qua che non mi interessa la ruoto ecco vediamo questa bella stella lì avendola abbassata che cosa succede all'interno della mia scena che io non vedo più quell'effetto luminoso dato ovviamente dall'immagine ma vedo direttamente le stelle torniamo quindi all'immagine posizionare un pochino più così ok e già anche se la visualizzazione del cielo è parziale vi assicuro che i dettagli sono fondamentali anche a livello di renderizzazione magari mi avvicino leggermente ancora un pochino qua e diamo un bel aggiornamento come ultima cosa giusto per creare un pochino più di atmosfera guardate anche solo le riflessioni che belle per creare un po' più di atmosfera diciamo di piovosa se vogliamo o che sta per arrivare una cosa che io consiglio a tutti di fare almeno in queste situazioni è diciamo essere versatili anche con i comandi che il programma ci offre perché nella sezione oggetti a parte la skydome che è nell'esempio principale mi porto una sfera e la caratterizzo con un cielo ma anche qui nella sezione ad esempio particelle che viene utilizzata poco ci sono tantissimi effetti particellari particolari simpatici che però uno direbbe quando mai lo uso io il fuoco se non nel cammino o questo small fog bank banco di nuvole e di nebbia in realtà questa cosa qua se io la vado a posizionare sulla superficie ad esempio qua mi genera vediamo se me l'ho messa sì mi genera eccola qua inizia a generarmi piano piano un po' di nebbia questa stessa nebbia io la posso utilizzare per camuffare il mio sfondo comunque quello che io vedo dietro cioè oltre il mio modello 3D vedete che si sta iniziando a ad impostare io posso creare ovviamente delle copie così come ho fatto per per guardate già adesso si inizia a vedere molto meglio come ho fatto per le luci o come ho fatto per qualsiasi altro elemento faccio un bel copia in colla di tutti i miei elementi e creo una specie di muro di nebbia questo muro di nebbia adesso si vede molto molto meglio mi dà comunque lo stesso effetto che mi davano le luci e queste adesso le vedete sicuramente meglio sono nebbia nuvole che io sto posizionando all'interno del mio modello che aiutano ancora di più a creare dettagli perché non sono solo quelli visibili immediatamente che generano piacere interesse ma sono anche quelli che una volta selezionati e nascosti ci cambiano completamente ci tengo a farvi vedere questa zona a caricare la scena di ovviamente dettaglio come dicevo prima nascondiamo qua le luci magari ci mettiamo ancora queste due un'ultimissima cosa che per ancora di più accentuare questo effetto si potrebbe fare è inserire una luce più o meno sempre nella stessa zona dei banchi di nebbia magari questi avviciniamoli leggermente ok creare una luce omnidirezionale esattamente come quelle lì sempre più o meno nella stessa zona questa qui sarà una luce che io prendo e sposto verso l'alto con un raggio in realtà molto più grande rispetto rispetto agli altri che non mi serve per illuminare ma mi serve per creare esattamente lo stesso effetto di cui parlavamo prima quindi quel lace delle luci quel effetto anche qua nebbia ovviamente non così tanto marcato vado leggermente in realtà non leggermente vado abbastanza ad abbassare ma sì diciamo che così ci piace questo per creare vi nascondo e poi vi faccio rivedere ogni volta la nebbia quanto può cambiare una scena e quanto si può caricare in questo modo quindi senza fare magheggi particolari ho solamente inserito due luci e due elementi da libreria nulla di assurdo la nostra scena direi è pronta io ci ho messo mezz'ora 40 minuti perché poi stavo anche parlando con voi ma chiaramente nel momento in cui si riconoscono gli strumenti e dove selezionare diventa immediato nella scena l'ultimissima cosa e poi giuro ho finito di dire l'ultima volta modifico la camera quindi vado ad aumentare o diminuire il il come si chiama vabbè il FOV il depth of field adesso non mi viene la parola in italiano creiamo un effetto del genere una scena del genere mettiamo un bel parallelismo mettiamoci così almeno verifichiamo che il nostro edificio sia ben visibile ed eventualmente nelle immagini il formato il formato esiste diciamo mi sembra che si possa andare fino al 9-10k come risoluzione poi dipende anche un po' dalla macchina che uno ha per le versioni ufficiali quelle quelle di prova arrivano fino al 2k in realtà per questa scena io andrei anche su un qualcosa di custom quindi di personalizzato nel more vado a modificare io manualmente la la grandezza qua dell'immagine per farvi in realtà apprezzare anche immagini verticali perché non sempre anzi mai vengono realizzate questo tipo di immagini ma sono in una presentazione dove magari ci sono tanti render inserire tutti i render a 16 noni diventa un po' ci si stufa se vogliamo di render sempre uguali a livello di formato inserire ogni tanto un render verticale può essere sicuramente simpatico e utile magari modifichiamo la camera ci posizioniamo più o meno in questo modo in modo tale che il nostro edificio sia ben visibile ma che sia visibile anche un po' tutto il contorno ancora non ci piace che questo diciamo la luce abbia questo effetto ma possiamo anche diminuire leggermente e ovviamente si modificano tutte questa qui è una scena notturna in notturna sostanzialmente aggiorniamola certo che fa la sua porca figura ovviamente può essere esportata ovviamente se non ci piace a livello di luminosità ovviamente possiamo ops sbagliato possiamo andarla ad aumentare leggermente quindi farla un pochino più luminosa senza magari esagerare se no il concetto del rendering notturna non ha più senso clicchiamo sulla sezione export selezioniamo l'immagine e l'esportiamo così per chi non ha mai visto Twinmotion è una possibilità un'occasione per testare in diretta anche la velocità con cui lui renderizza non so se vi siete resi conto lui ha già finito e il nostro render lo faccio vedere è questo qua me l'ho aperto nell'altro schermo è questo qua senza neanche farlo apposta abbiamo le macchine che si sono fermate esattamente lì al semaforo rosso è comunque un render di ottima qualità poi ovvio che si può fare molto di meglio ma vi assicuro anche molto 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 di peggio e qui ho dato un po' libero sfogo a quelle che sono le possibilità del programma poi io ci ho messo il tempo che ci ho messo perché devo anche intrattenervi ma è ovvio che fare qualcosa del genere senza avere senza dover spiegare nulla a nessuno diventa molto 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 più veloce una scena del genere un quarto d'ora si è impostata ovviamente io da qua posso impostare tutti i render perché voglio e perché no anche dei video finisco magari anche con un video da non da 10 secondi facciamo da 5 secondi così facciamo più veloce un video che finirà in questa zona vediamo cosa avviene adesso io lo sono inventato adesso non so cosa ok si inverrà più o meno una cosa del genere anzi l'ultimo pezzo lo facciamo che visualizza il nostro bellissimo edificio aggiorno e avremo un passaggio del genere esporto anche il video così almeno vediamo anche quanto ci mette esportare un video così come facciamo in tutti i webinar vi faccio vedere in realtà anche quello che è il cielo che io ho inserito all'interno di Twinmotion queste immagini in HDR immagini sferica l'ho abbassato perché ovviamente a un certo punto io ho tutta sta roba qua non la voglio vedere voglio che stia bello bello visibile lo schermo il cielo torniamo un attimo in Twinmotion lui sta renderizzando in realtà qua ci segna 33 minuti ma non saranno mai tre minuti uno se già sa dire tanto e nel frattempo che lui completa la la renderizzazione del video io inizio ad aprire le domande anche perché non ho più niente da dirvi e come al solito ce ne sono diverse allora vediamo un po' Enrico che cosa ci chiede può essere che le forme la rizzate in Archicad si comportano in un modo diverso con ombre e texture può essere adesso io uso Archicad ma le forme non è che le importo così spesso probabilmente forme o anche qualsiasi tipo di mesh se importata dentro Twinmotion con una visualizzazione a triangoli quindi proprio spigolosa è normale che l'ombra venga generata venga visualizzata in un modo diverso perché ovviamente è l'ombra che colpisce una superficie spigolosa o una superficie smussata fa ha effetti diversi nel frattempo il video ovviamente è stato esportato e anche qui me lo fa vedere dall'altro schermo ma un video di 5 secondi che viene esportato in un minuto prima di Twinmotion grazie a tutti